e la ciao belli sono ruttolomeo e sono uno dei tizi di arialm beyond però sono in incognito non si può sapere allora vabbè innanzitutto devo andare a parlare con heiling parla con la coraggiosa nella sala da te vabbè dai c'ho un po di cose da fa e in pratica ho ho questo salvataggio che mi è stato passato dal mio degno compare jagg e il sorgia guaro e e adesso parteciperò a questa staffetta di gaming cercando di non sputtanare il gioco agli altri lo stai facendo Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? State forse cercando di provocare un incidente? Vabbè state fuori di testa Giocate senza scacchiera Chiamiamo a Neuro E dove va? Sentierò la mano aperta Quindi lui è sicuramente il sentiero del pugno chiuso Vabbè Andate bene Vabbè ma non è questo Che dove devo fare? Ma che palle Allora Questo che cavolo Ah bastava di Devo parlare con quello Ah posto Entra Salvataggio Automattico Sempre leggere i libri Guardatevelo Stoppate il video Leggetevelo con calma Perché non c'ho proprio voglia di leggere L'esperienza Al posto Io non leggo un tubo Non c'è 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 Ma quindi Eileen è una rinca I tuoi uomini Sono dei cacacazza Che cazzo è Su merita Che vuoi? Vabbè Due calci in culo Dai Ah Ma quindi Bay È Un Bugiardone Uno che fa Il doppio gioco Ah No Vabbè Questi Sono Ma che cazzo è negrò giù di quello che c'è? Posso non essere una piccola piccola, come Lon, ma non voglio farcire questa gamba per sempre. Qualcuno voglio un uomo, magari una piccola casa, bambini anche. Bay promiscono che mi rende tutto questo. Mi promiscono che mi muovere, e ora c'è l'ora di vincere. Ma una promiscono è una promiscono. Non mi lascio mai l'ora. Anche se si tratta di. Si, lo facci. Siamo in un modo che faccia. Vai a dire a Lon, quale tipo di man be really is. Vedete come si piace quando si trova la sua perfetta fiancina proposta a un'altra uomini. Hai qualcosa da dire, dicendoci a I Ling. È in charge, qui. Non so cosa hai detto nel dubbio assolita. Sempre, nel dubbio sempre assolita. Pazza che club spoglio è brutto comunque. Non c'è manco un po' d'acqua Però stanno le botti So soldi So sempre soldi Avevo fregato un po' dei soldi Su sopra non c'è va andare Vabbè andiamo a parlare con sto coglione Perché giustamente devo andare a parlare con sto coglione Andiamoci Vediamo cosa combina questo tizio Allora Io non so perché ma ce l'ho qua sto indicatore Allora come si torna a dove sta Willing Aspetta ci starà una mappa Che non so in quanto Ciao So Sì Sì Si Si Sì 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 Si Sì 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 Allora Ora parte una mega rissa Poi eminano tutte e due Vabbè è brutto però Vabbè ma te l'ha detto da bambina ma che vuoi ce la sono passati vent'anni Fallo fa povero quanto sei pesante In effetti dai gliel'ha detto da bambina dai Vabbè veramente so passati vent'anni dai E dai ma so vent'anni fa ma che vuoi Aspetta hai detto che non Anche tu sei l'indicato Anche tu sei l'indicato Mazza che dicenda studio Cioè questa faceva massacrati botte sto pover' uomo per sta cazzata Mazzo questa è malata E' la Overly Attacked Gear Girlfriend messa in un videogioco Per un po' di soldi mi so vatti dai Eh e ritrovala Te devi stare più calma Mi spero Mi spero che le cose funzioni per te Mi spero che le cose funzioni per te Come va Bae Let's go Mi spero che le cose funzioni per Bae e Laun Ti sei immattita? Eh, te la sei creata tu, però puoi sempre uscire. Tu pensi che puoi prendere questo? Ma non credo che sia necessario per cercare qualcuno. Vediamo, c'è Rue, il bosone, ma non è solo un dronco. Il mio ragazzo ha avuto più di alcuni run-ins con lui durante i anni. Ma praticamente devo trovare il marito a questa. Perché queste missioni dentro un gioco di ruolo? Mamma mia. Ma sono pallose, dai. Ma se trovi qualcuno che vuoi trovare una dica, prendi lui qui così che posso controllare. L'unica razza per cui ero interessata in Bey è perché ho pensato che... Non è come se fosse il amore della mia vita o qualcosa. Mazzà che paracuda. Vabbè, andiamo a trovare il marito a questa. Finchie però che roba. Devo trovare il marito alla versione femminile di Ivan il Terribile. Che cazzo, questa è un'impresa. Faccio prima a fine il gioco alla difficoltà massima. Con un braccio legato dietro alla schiena. Poi sinceramente... Allora, son salito di livello. Che si può fare? Ho 5 punti stile. Pompiamo un po' Onda Divina che mi ricordo che serviva. Ok. Poi che si può fare? Il Damone Rospo l'ho sempre visto come una cacata. Stella Dorata serve. Aumento velocità. Riduzione costo concentrazione. Perché quanti ce ne vogliono? Indietro. E con due... Ci aumento i mille tagli. Indietro. Vabbè, me li tengo da parte. Ah, poi non si deve poter... Si potevano fare pure altre cose. Amuleti. Di Dakari. Beh, che devo fare per impressionare questi? Aspetta, io ho bisogno di vedere la mappa però. Allora, io sto qua. E... Allora, prendo la prima strada a sinistra qua. Quella che sale. Questa va verso la sala da te. Vediamo. No. Questa va da tutt'altra parte. Era quella sotto. Mi sto a perdere come un coglione. Proprio un coglione, coglione. Ah, poi posso anche... Abilità. Tecniche. Statistiche. Ok. Uscita. Usciamo. Ah, a parte che anche quella riprendeva qua. Attraverso quello stradino del... Chiorlo. Ci sei stato mai nel nido del Chiorlo? Mi sa che pozza. Non ho capito uno chezzo. Caprini. 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 Che c'è sta qua? Sa soldi, oh. Perchè nessuno se l'è venuti a fregare prima? Che è questa? Ah, quindi sei la pettegola del paese. Che cazzo c'è? Che c'è? Che c'è una peste. Che c'è? Che c'è una peste. Un po' delle cose che non si può fare. Ah, allora. Pesci vendola nella dialetta pesciata. Allora. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non c'è voglia di parlarti. Ah beh, non c'è niente da dire. Questo ho già detto. Entriamo dentro a sta saletta da te. Ah, ancora voi, rompi i coglioni. Ci avete appena preso una bella fracca di botte, ne volete ancora? Vabbè dai, meno pure a lui che poverete. Che cazzo è questo? Non c'è niente. Un è morto. Non c'è niente. Vabbè mi rimido a spammare di talmente. Quante botte vi dato, tantattà. Ma non c'è la due croci in mano. Qua mi sta a fa male il maledio. Che, 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 che... Vabbè, che c'è di mezzo a due? Che... Che, 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 che! Vabbè, è un buro. E' un po' difficile che ci diano fastidio con le braccine rotte. Stek, stek, braccini. Cioè tu me hai aspettato qua oltre dieci anni. E se io non passavo, se io passavo da un'altra parte, come cazzo facevo? Grande stratega, grande mago, yo. Sun Lee ha chiesto a me di cercare una pezza di un amuleto speciale che voleva a te, il suo popolo, avere. E' stato bruciato e scattato quando il Tempolo di Spirit Monk fuori. E' intelligente farlo a pezzi eh, perchè poi tocca riattaccarlo. Rai. E allora? E' un po' di spiga. 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 Spiga negra. Spiga. 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 Ok, grazie per avermelo detto, buono, quindi lo coglioniamo, lo coglioniamo, buono, un battimento, sentiamo, sentiamo con segni tattici, l'oggio. Pirates have raided local villages using fliers, swooping down like locusts, you can find Shang near his... Shang, va bene, ok, ciao. Ehi, un sacco di esperienza. Vabbè, più chi ragazzi se... Siamo capiti. Andiamo a vedere che c'è qua sopra, va. Vabbè, fallo bere, non tonde. È umbriaco. Tutti marina e unbriaco. È un ragazzo, una figa questa. Un personaggio. Un personaggio. Un personaggio. Un personaggio. Corrivo l'amore. Sorrivo l'amore. Core di mucca arrosto. Soffritto di bile di leopardo. Cervelo di scimmia. questo è che ti mangi proprio la mero che schifo assaggiamo sta roba tipo? sei cieco? il tuo cibo ti ha reso cieco? ah devo pure pagare ma faf lappia lappia va vabbè la rupa è la cucchia e la craccia inizialmente è la scuola e la nuova è la sussuotia sonsifonia il cuore di orsa arrosto trovata di scimmia o zucca di robustezza il cuore coscia di daino marinata e un contorno di pava di scarabèo marrone o stercorario suppa fredda di occhi di anguilla e anguilla in gelatina ripiene di alghe fermentate il cuore di orsa oh zio nooo mi so sentito male che figura il cuore di orsa il cuore di orsa il cuore di orsa il cuore di orsa credente ho buttato 300 monete nel vater scusatemi ehi scusatemi ehi scusatemi 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 che strano forte c'è gente strana c'è gente strana scusati eh scusatemi 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 anche perchè prenderci le botte da un orco non è tanto... non è tanto salutare ciao eh beh si calma oh che cavo allora vediamo chi si è il zong zong ping zong dong ping zong dong ping zong dong ping zong sembra quasi una firastrocca alcuni dei patroni qui stanno sfrugati sono sfrugati che se non rimane con me non so cosa fare, non mi ascoltare abbraciparlo di sicuro non cerco la lide vabbè in pratica devo andare a convincere il bestione si salga con i pentitori vabbè 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 2 gioco gioco e gioco giochi intelligenti vero che ti d'efficienza enti per ora gioco gioco da prenderlo no non sei cattivo sei solo stupido mostro mostro non starve master better off without zhong zhong is lonely ox must be lonely too maybe ox will forgive zhong and we be friends again i will go and see that bit it that bit it do you have been nice to zhong zhong like you zhong hope you have good day anche a te puoi una giornata bestiane i was at my wick's end you've done me a great service today vabbè almeno ci lo siamo levato dai scatole dai come zhong let's go home perchè mi sembra un po' pericoloso il panico zhong go home now zhong go home now thank you for getting rid of that thing business is bad enough without that ogre scaring away my customers here's a little something to thank you it's not much but it's about all i can afford these days eh vabbè so tempi difficili pure per te amico do you mind my name is yaru though some of the locals disparagingly referred to me as yaru the s yet i suffer their verbal s i am at the stage of my life in which i long for companionship unfortunately this town presents scant opportunity for a pseudo i understand your desire to seek elucidation from one who however i'm in no mood to converse with you i confess that i am eager to find a woman of genuine intellect and class yeah ce l'ho fatta con l'adulazione grande 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 questa è una bella sfida quella è la sfida quella ha dei gonfi andiamo greetings fair maiden i see accounts of your physical beauty are quite accurate i only hope the less flattering traits attributed to you are less so you sure like to use big words don't you you're trying to make me feel stupid or something precisely my copious vocabulary and cunning linguistics are ample evidence of my superior intellect Aia questa brucia Cacciata la cella Ale pure uno starnuto Vabbè pardon Squisete A parte del software Secondo me che vede se piglia una schiappi Mi ha fatto scappare Madonna Sei peggio di una bestia T'ho trovato un uomo Bello, intelligente E l'hai fatto scappare Gli hai messo paura Sei proprio peggio D'un animale Mamma mia E impara un po' D'educazione Ma come cavolo Roly 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 Keep it rolling 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 Yeah Rolling Rientro nella sala da te E con questo ve saluto E soprattutto Se vedete Un po' Cercate di scoprire Quali dei tre sono io Anche perché qui sono sotto falso nome Al prossimo video Ciao ciao Anche se Ho parlato un po' Pochino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti